Dal 3 al 14 luglio torna l'Intel Summer Camp al centro sportivo Arca, l'iniziativa targata Virtus Andria, unica realtà in Puglia a rientrare nel progetto IGP Inter, vivrà la sua terza edizione consecutiva alla presenza ancora una volta di un team di tecnici del settore giovanile proveniente da Milano. La manifestazione è stata presentata a Palazzo di Città, godendo del patrocinio nel comune di Andria, una nuova estate a tinte nerazzurre in cui il pallone resterà l'elemento centrale, ma ci sarà spazio anche per giochi, iniziative di intrattenimento e pranzo al centro sportivo, un'esperienza a 360 gradi che arricchirà i giovani. Il partnership con l'Inter ha dato la possibilità a tanti ragazzi nei ultimi tre anni di conoscere il mondo Inter e soprattutto di allenarsi con la metodologia dell'Inter, quindi credo che per il territorio e non solo sia una partnership molto ma molto importante. La parola d'ordine anche quest'anno è divertimento. Un summer camp dedicato soprattutto al divertimento e alla crescita dei bambini, sia a livello tecnico-tattico ma soprattutto a livello di divertimento. E con un team che arriva da Milano? Sì, un team che arriva tutto da Milano, quindi ci sarà un responsabile tecnico coaudivato da cinque allenatori più allenatori portieri, tutti del settore giovane dell'Inter. Il team di tecnici interista sarà capitanato da Fabio Pessatori, elemento di spicco del settore giovanile nerazzurro, a fianco a lui la bandiera della Fidelisandria, nonché altro pilastro della Virtus Raffaele 40. Quest'anno cerchiamo proprio di consolidarci con la presenza anche di Fabio Pessatori, che tutti sappiamo chi è, a parte che è un mio amico, è il coordinatore delle fasce giovani dell'Inter, quindi un progetto in continua crescita e speriamo che ci sia quella continuità che noi abbiamo già instaurato con l'Inter da tre anni. Tanto entusiasmo per l'iniziativa da parte della sindaca Giovanna Bruno, la Virtus Andrea ha consegnato al primo cittadino una targa di ringraziamento per la fiducia dimostrata in questi anni. Il comune di Andrea sposa tutte le iniziative che vanno nella direzione di dare una opportunità, soprattutto ai nostri più piccoli, più svantaggiati nel caso specifico, quindi ancora una volta attraverso il nostro settore servizi sociali, pubblica istruzione, abbiamo la possibilità di inserire nell'ambito del summer camp che ci è stato proposto alcuni dei nostri figli di questa città, dando loro anche l'opportunità attraverso lo sport di essere sottratti all'ozio estivo e alla pericolosità della strada o di tutto quello che è collegato al tempo libero dei nostri ragazzi.